amici di youtube buongiorno e benvenuti alla puntata 13 del proxima news il tg di astronomia di proxima giorni l'articolo di oggi che voglio leggere direttamente da astro news è questo ingenuity funziona e si ricarica ingenuity è un drone che viene trasportato dalla sonda perseverance che è la missione che è partita da poco per direzione marte e deve essere sperimentato se questo martecottero così è chiamato come elicottero deve sorvolare l'atmosfera marziana e si è in grado di ricaricare le proprie batterie quindi è stato fatto il test il martecottero sperimentale che la nasa ha deciso di inviare nel frattere g 0 insieme al rover per severance è stato svegliato per la prima volta dopo il lancio di 15 giorni fa ingenuity ha superato un test di agnostico e ha ricevuto una parziale ricarica delle batterie venerdì 7 agosto durante le otto ore di funzionamento e prestazioni delle 6 batterie agli ioni di litio del rotore sono state analizzate mentre il livello di carica veniva portato al 35 per cento si è determinato quindi che uno stato di bassa carica è ottimale per la salute della batteria verso la crociera di marta questa è una grande pietra miliare in quanto è stata la nostra prima opportunità di accendere ingenuity e di sottoporre nella sua carica elettronica ad un test drive da quando lo abbiamo lanciato il 30 luglio questo ha detto tim canham il responsabile delle operazioni per mazza elicópter al jet propulsion laboratori della nasa nel sud della california dal momento che tutto è andato dal libro da libro cioè insomma dato come doveva andare faremo la stessa attività circa ogni due settimane per mantenere uno stato di carica accettabile questa attività di carica dimostra che siamo sopravvissuti al lancio e finora siamo in grado di gestire il tuo ambiente nello spazio interplanetario ma ha detto mimi aung il direttore del progetto abbiamo ancora molti primati da battere prima di poter tentare il primo test di volo sperimentare su un'altra maniera in questo momento ci sentiamo molto ottimisti ricordiamoci quindi che è una missione che verrà radiocomandata da terra e piloterà un drone attraverso l'atmosfera marziana l'elicottero da 1,8 kg è una combinazione di componenti metalli commerciali e altri appositamente progettati esso è attualmente riposto in un involo produttivo agganciato sotto la pancia di perseverance e riceve la sua carica dal generatore rtg del rover una volta che verrà dispiegato e deposto sulla superficie di marte le sue batterie saranno caricate esclusivamente dal pannello solare sposto sopra i due rotori se in genti sopravviverà le fredde notti marziali durante il check out preliminare il team procederà con i test il drone disporrà di un periodo sperimentale di prova di 30 giorni marziali 30 solo 31 giorni terrestri e se avrà successo dimostrerà che il volo motore può essere ottenuto su marte aggiungendo alle future missioni su marte la possibilità di una ricognizione aerea alle loro esplorazioni con un rotore di seconda generazione come aveva evidenziato in un articolo di tre anni e mezzo fa questo sarebbe di grande aiuto per una rapida curata e pianificazione del drive da parte di un rover dato che le immagini ridimensionali con dettagli dell'ordine del centimetro renderebbe non necessaria la navigation camera di cui finora erano stati dotati tutti i modelli quindi un'innovazione un salto tecnologico non indifferente in questo è tutto vi saluto e vediamo ci sentiamo la prossima puntata del prossima news ciao a tutti